Quando fai sport o fitness ti stanchi? Bene, ma quella stanchezza che hai fatto, che hai avuto oggi, è davvero utile per l'obiettivo che volevi ottenere? Forse sì, ma forse no. Allora in questo video, anche questa della linea best-seller tra i più visti del 2016, ti spiega cos'è la fatica e quali sono le fatiche, magari quelle utili, quelle da portarci a casa perché ci servono, per migliorare quelle invece, ahimè, troppo eccessive, quelle che non se ne andranno più dal nostro corpo e dalla nostra mente. Quindi se l'argomento ti interessa, rimani, guardi il video No Pain No Gain della linea best-seller I migliori da 2016. A dopo, ciao! No pain no gain. Gli anglosassoni ovviamente usano questo termine per farci capire che non c'è miglioramento senza fatica, senza impegno. Ma la fatica esattamente cos'è? Sono quattro i passaggi importanti che dobbiamo capire. La fatica acuta, la fatica funzionale, quella non funzionale è l'overtraining. Allora vediamoli, la fatica acuta è quando ovviamente dopo un allenamento noi siamo stanchi, ma dopodiché andremo a riposare e il giorno dopo ci sentiremo straordinariamente meglio. Ok, e questo è un passo importante. Se noi invece strutturiamo questo in funzione di un allenamento, abbiamo la possibilità di andare in overreaching, che può essere funzionale, ovvero quello stato di affaticamento legato alla supercompensazione, ovvero quella capacità che il nostro corpo ha di darci una energia non uguale a quella che abbiamo speso, ma un po' di più, che ci consente quindi di migliorare e di progredire. Se questo è fatto con una metodologia accurata, ovviamente questo andrà verso un progressivo miglioramento. Quando invece sbagliamo in buona fede magari un allenamento, andiamo a capire che stiamo andando in una direzione sbagliata e si chiama non functional overreaching, quindi quello al sovraccarico non funzionale. Stiamo andando in una direzione sbagliata, stiamo facendo un allenamento probabilmente troppo intenso o troppo ravvicinato rispetto al precedente e quindi non abbiamo ripristinato tutte le nostre riserve, probabilmente non siamo ancora arrivati al punto giusto per fare un nuovo allenamento. Questo ci fa andare in una direzione sbagliata giorno dopo giorno. Se noi non ce ne accorgiamo e non torniamo indietro e non mettiamo assolutamente le correzioni al nostro allenamento, andiamo nell'overtraining. A quel momento il nostro lavoro da sport scientist o da coach, da allenatore, è assolutamente finito perché l'atleta passa al medico. Questa diventa una patologia e quindi va curata perché altrimenti dall'overtraining non si esce. Attenzione perché arrivare in overtraining significa non solo fare un allenamento fatto male o decrementare i propri tempi, ma anche andare male a scuola, poter avere degli stati alterati dell'umore, quindi litigare anche con gli amici, familiari, eccetera, e questo per molto tempo. Si entra anche in depressione, non è una cosa da sottovalutare. Quindi attenzione, l'allenamento va pianificato in un modo corretto, perché deve essere funzionale, quella faticamente, in modo da poter proseguire. Quindi attenzione, alleniamoci in un modo corretto e se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, metti mi piace, scrivi anche la tua domanda. Nel mentre, ci sentiamo al prossimo. Grazie e ciao.